Non so nemmeno se raccontarvi la storia di questo quadro, perché a volte le storie reali, soprattutto delle icone, importanti e popolari, rischiano di essere, di sminuire il valore dell'opera. Comunque, certamente questa opera è cara a molti di noi, soprattutto quelli della mia età e più vecchi, perché è un quadro famosissimo. Lo troviamo purtroppo oggi nei mercatini, ma un tempo erano in tutte le nostre case, le case, diciamo, più per bene. Ecco, anche la mia mamma aveva sopra il letto matrimoniale questo quadro. È la madonnina questa più riprodotta di tutti i tempi. Ecco, in realtà il quadro ritrae una fanciulla di 11 anni. Si chiamava, sappiamo anche il nome, si chiamava Angela Chan. Fa pensare a un cognome quasi veneto, con i cognomi tronchi tipicamente veneti. E infatti questa bambina di 11 anni, Angela Chan, è qui ritratta non con il figlio, ma con il fratellino più piccolo. Sappiamo anche il nome del bambino, Giovanni. Il pittore Roberto Ferruzzi era infatti un dalmata, quindi era quello che diremmo un Giuliano, un veneto Giuliano dell'Istria antica. E siamo nel 1853. Poi lui muore, cioè no, lui nasce nel 1853, e poi muore nel 1934 sui colli Uganei. Viene a pensare che fosse tra coloro che poi se ne andarono dalla Istria e dalla Dalmazia. Certo, prima degli eventi spaventosi, ma che probabilmente, chi lo sa, avevano subordurato in molti. Era figlio di un noto avvocato, ecco, questo Roberto Ferruzzi, figlio di un noto avvocato, e dopo gli studi classici si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova. Era molto dotato nel disegno, pur continuando i corsi universitari, studiò infatti disegno e pittura e si dedicò anche alla musica. Nel 1879 si stabilì a Luvignano, appunto Nicoli Uganei, dove si dedicò esclusivamente alla pittura, creando attorno a sé un cenacolo culturale che divenne meta dei maggiori artisti dell'epoca. Un giorno vide una ragazzina, appunto, ecco la storia del quadro, si chiamava Angelina Chang, seconda di 15 figli, ripeto, seconda di 15 figli, che teneva in braccio il fratellino Giovanni addormentato. L'immagine del fratellino colpì il pittore per tutta la sua tenera dolcezza e riprodusse la scena in un dipinto famoso intitolato Maternità. Il dipinto, pensate come sono cambiati i tempi, fu esposto alla Biennale di Venezia nel 1897 e venne premiato. Oggi se qualcuno presentasse un quadro della Madonna, bello, non diciamo blasfemo, come è in uso fare nelle ultime Biennali, ma una bella Madonnina che tiene in braccio un bambino, figurati, altro che premio, ecco, addirittura non sarebbe neanche accettato probabilmente in Biennale. Ebbene fu premiato, fu premiato alla Biennale di Venezia nel 1897 e il successo popolare suggerì un cambio di titolo in Madonnina. Il quadro fu acquistato per 3.000 lire, cifra importante per l'epoca e più volte rivenduto. Infine fu acquistato dei fratelli Alinari, noti fotografi di Firenze, fondatori dell'arte fotografica, che lo misero in esposizione nei loro studi. Quindi fu ancora rivenduto, ma i fratelli Alinari si riservarono ai diritti di riproduzione. La Madonnina, detta anche delle vie, o Madonna del riposo, oppure anche del dito, io sapevo che venne definita anche Madonna del dito, fu riprodotta in migliaia di copie, biglietti, santini, oggetti di devozione. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'ambasciatore americano in Francia, John Leishman, acquistò il quadro, ma durante il viaggio verso gli Stati Uniti la nave venne silurata e la bella Madonnina finì in fondo al mare. Alcuni però sostengono che non sia perduta, ma in una collezione privata in Pennsylvania. La ragazza del ritratto, ecco qui c'è una nota dolente, la ragazza del ritratto, Angelina, che ispirò la Madonnina, si era nel frattempo trasferita a Venezia, si sposò e seguì nel 1906 il marito in California, a Oakland. Quindi c'è un destino americano di questa scena di tipo cristologico, mariano cristologico. Ecco, ebbe dieci figli, ma la sua felicità svanì per l'improvvisa morte del marito. Vedova non fu in grado di affrontare l'avversità della vita. I suoi figli furono ospitati in orfanotrofio e lei, in preda dell'espirazione, fu internata in manicomio, morì nel 1972. Non sapeva, non sapeva che il suo viso avrebbe ispirato milioni di preghiere in tutto il mondo, quelle preghiere naturali, semplici, della semplicità sconfinata, delle nostre nonne, delle nostre madri, che hanno creato quei fiori meravigliosi spirituali, religiosi e spirituali, che hanno dato a questo quadro quella valenza di grande potenza, tipo spirituale e sotterologico, che tutti noi conosciamo, soprattutto quelli che hanno la mia età o più vecchi.